cari amici casa pound ha vinto la causa contro facebook che pertanto dovrà riattivare anzi ha già riattivato la sua pagina jannone che è il leader di casa pound ha così commentato questa è una vittoria di casa pound e di tutto un mondo politico non allineato jannone ha sicuramente ottime ragioni per gioire ma io credo che in realtà questa sia veramente la vittoria di tutti questa è la vittoria della libertà di parola e permettetemi di dire che questa la sento anche un po la mia vittoria perché la cosa importante non è tanto la riattivazione della pagina di casa pound per l'amore del cielo cosa buona e giusta ma la cosa veramente importante sono le motivazioni di questa sentenza perché finalmente un giudice ha messo nero su bianco quello che io sostengo da tempo e quello che diciamo la situazione che io subisco da tempo è la causa di una situazione che io subisco da tempo contro la quale mi sono battuto combattuto e ho fatto diversi video di denuncia nei miei video di denuncia sulle censure di facebook ho da sempre portato avanti la tesi che un social network più che come un gestore di un servizio privato si configura invece come il fornitore di un servizio pubblico e per questo sono stato attaccato sono stato anche deriso pensate anche da alcuni youtuber gli stessi peraltro che invece oggi si indignano e gridano alla censura e vabbè cosa vogliamo farci comunque questa tesi l'ho sviluppata anche in base alla mia conoscenza del mondo dell'editoria e specificatamente delle norme che regolano il mondo dell'editoria che poi sono norme che derivano da principi costituzionali eppure mi veniva risposto con un sorrisino saccente che il social network è un'entità privata e di conseguenza fa un po quello che vuole se non ti va bene allora non usi i social network insomma il social network fa quello che vuole tu zitto subisci e possibilmente ringrazia e sorridi e invece oggi un giudice mi ha dato ragione mi ha dato pienamente ragione come testimoniano le parole dell'avvocato belisario la decisione del tribunale di roma è innovativa perché riconosce ai social un ruolo diverso di quello di semplice gestore privato di una piattaforma e lascia ipotizzare la loro configurazione quale servizio pubblico a cui tutti hanno diritto di accedere a meno che non siano dimostrate condotte illecite certo parliamo di un provvedimento cautelare e questo vuol dire che nel caso una delle due parti intendesse procedere il procedimento potrebbe anche avere un esito diverso ciò non toglie tuttavia che stiamo parlando di una ordinanza storica finalmente questa ordinanza riporta la giustizia e la legalità nel mondo dei social network configurando i social network non come un luogo gestito da un privato come una sala privata ma come una sala pubblica come un servizio pubblico e tutto ciò ha delle implicazioni davvero molto interessanti che però approfondiremo insieme dopo aver letto le parti più salienti di questa ordinanza cautelare è infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di facebook o di altri social network ad esso collegati con riferimento all'attuazione di principi cardine essenziali dell'ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici 49 costituzione al punto che il soggetto che non è presente su facebook è di fatto escluso o fortemente limitato dal dibattito politico italiano come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento ne deriva che il rapporto tra facebook e l'utente che intenda registrarsi a servizio o con l'utente già abilitato al servizio come nel caso in esame non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti appunto facebook ricopre una speciale posizione tale speciale posizione comporta che facebook nella contrattazione con gli utenti debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena la loro violazione da parte dell'utente il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto facebook ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l'accesso al proprio servizio conseguentemente ai principi sopraesposti l'esclusione dei ricorrenti da facebook si pone in contrasto con il diritto al pluralismo di cui si è detto eliminando o fortemente comprimendo la possibilità per l'associazione ricorrente attiva nel panorama politico italiano dal 2009 di esprimere i propri messaggi politici quindi finalmente questa ordinanza ha stabilito che facebook e di conseguenza tutti i social network devono rispettare la costituzione che è un principio banale no ma nella società bacata in cui viviamo anche fare dei ragionamenti così semplici sembra diventato impossibile questo perché molte menti sono perse in ragionamenti deviati deviati come la società in cui viviamo ma torniamo al punto ovvero il pluralismo il pluralismo dell'informazione sentite che bella che questa parola pluralismo finalmente anche sui social il pluralismo ma perché è così importante questo concetto facciamo un esempio semplice prendiamo un'edicola non un'edicola svolge un servizio pubblico e di conseguenza un'edicola è tenuta è obbligata ad accettare e a tenere tutte le pubblicazioni e nei limiti del possibile è tenuta anche ad esporre tutte le pubblicazioni e questo perché se così non fosse per esempio no un edicolante che ne so della lega magari non esporrebbe non vorrebbe tenere che ne so il fatto quotidiano piuttosto che la repubblica mentre d'altra parte magari un edicolante che è del pd no non vorrebbe il giornale e allora in questo senso il pluralismo assicura a tutti di poter pubblicare e non solo assicura di poter pubblicare ma assicura a tutte le pubblicazioni la stessa diffusione la stessa divulgazione ed in linea almeno teorica anche la stessa visibilità bene ora se applichiamo lo stesso concetto dell'ordinanza al singolo utente bene allora facebook non può assolutamente né bloccare gli utenti né tantomeno rimuovere i contenuti che pubblicano questo a meno che ovviamente non violino la costituzione ma soprattutto facebook non può assolutamente limitare la visibilità dei contenuti è questo l'aspetto veramente importante e a mio parere che come sapete non sono un avvocato è a mio modesto parere su questo sarebbe il caso di fare una mega azione collettiva chiedere un mega risarcimento insomma una sorta di class action dove questo fosse possibile ora vi racconto brevemente la mia esperienza su facebook con informal tv con la pagina di informal tv allora quando ho iniziato ho iniziato veramente alla grande anche anche insomma al di sopra di qualsiasi più rosia aspettativa pensate che i miei video prendevano addirittura decine di migliaia di visualizzazioni su facebook io prendevo molte ma molte più visualizzazioni su facebook rispetto ai video che pubblicavo su youtube e poi di colpo facebook ha iniziato a bloccare il mio profilo personale e la giustificazione che dava era perché io condividevo i miei video nei gruppi chiusi quindi nei gruppi privati dove ero iscritto ora a parte che questa cosa è contro la costituzione anche questo è contro la costituzione insomma facebook ha iniziato a bloccare un giorno poi una settimana fino ad arrivare a bloccare il mio account per più di un mese in quei periodi io non potevo pubblicare nulla se non sulle mie pagine bene dopodiché praticamente è iniziata una stretta fortissima sulla divulgazione dei contenuti cioè sulla divulgazione dei miei video e quindi sono passato da ricevere decine di migliaia di visualizzazioni ad oggi oggi un mio video su facebook non prende più di qualche centinaio centinaio di visualizzazioni e questo perché tra i vari blocchi di facebook non c'è soltanto il non inviare le notifiche agli iscritti no c'è anche l'oscurare il contenuto oscurare il post non renderlo visibile a tutti e c'è anche molto di più c'è anche oscurare le condivisioni questo vuol dire che quando qualcuno per esempio condivide un mio post sul suo diario ebbene questo post non viene certo mostrato a tutti i suoi contatti che guardano il suo diario non viene mostrato a tutte le persone che guardano il suo diario e quindi praticamente oggi la mia pagina facebook è come se non esistesse avercela o non avercela a me non cambia nulla tant'è che su facebook ormai non pubblico più i video pubblico direttamente il link ai video su youtube se come si suol dire questa ordinanza è destinata a fare giurisprudenza bene allora il concetto di pluralismo deve essere esteso a tutti gli utenti di facebook e questo significa che facebook non può assolutamente limitare la pubblicazione dei contenuti non può limitare i singoli utenti e soprattutto non può limitare la divulgazione dei contenuti e non può tantomeno privilegiare la divulgazione di alcuni contenuti a discapito di altri e dal momento che invece facebook fa proprio tutto questo come ha dichiarato apertamente non senza un una certa soddisfazione lo stesso mark zuckerberg beh allora io dico che una causa in questo caso sarebbe davvero il minimo da fare questo anche perché riattivare riaprire una pagina è un conto levare le limitazioni alla visibilità e le limitazioni alla divulgazione dei post che questa pagina pubblica è ben altra cosa e questa ordinanza implica ovviamente l'eliminazione a qualsiasi ostacolo alla libertà di parola quindi non solo facebook è obbligata a riattivare come ha già fatto la pagina di casa pound ma è obbligata anche ad eliminare qualsivoglia limitazione alla divulgazione dei contenuti ma non solo della pagina di casa pound ma di tutte le pagine e di tutti gli utenti di facebook tornando all'ordinanza poi c'è un altro aspetto importante perché facebook aveva portato come prove no degli esempi di comportamenti di alcuni esponenti di casa pound alcuni dei quali addirittura apparivano essere comportamenti illeciti ebbene la sentenza a l'ordinanza scusate ha messo nero su bianco che il comportamento di un singolo non può certo essere imputato all'associazione sotto altro aspetto è appena il caso di osservare che non è possibile sostenere che la responsabilità sotto il profilo civilistico di eventi e di comportamenti anche penalmente illeciti da parte di aderenti all'associazione possa ricadere in modo automatico sull'associazione stessa che dovrebbe così farsene carico e che perciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di facebook insomma facebook le ha prese di santa ragione ha perso davvero su tutta la linea e infatti dovrà pagare anche i danni di immagine a casa pound ovvero 800 euro per ogni giorno di chiusura della pagina questo oltre al pagamento delle spese processuali di 15 mila euro prima di salutarvi vorrei fare un ultimo ragionamento sul funzionamento dei social network allora i social network senza utenti non esisterebbero sono gli utenti che creano i contenuti e di conseguenza creano la ricchezza creano i guadagni per il social network e quindi in qualsiasi altra azienda no che non fosse un social network per esempio gli youtuber avrebbero un peso enorme anche la possibilità di contrattare su diversi aspetti con l'azienda non ultimo per esempio l'aspetto dei ricavi pubblicitari perché oggi youtube no si prende il malloppo per sé e lascia le briciole agli altri ma questo è solo uno dei tanti aspetti si potrebbe contrattare anche sulle norme su altre cose se per assurdo gli utenti dei social network facessero lo sciopero dei post non lo sciopero dei della pubblicazione dei contenuti per una settimana cioè non pubblicassero nulla sui social network per una settimana o ancora meglio non aprissero proprio i social network per una settimana ma vi immaginate che danno che subirebbero i social network stessi e quindi quello che io dico è che se si riunissero non dico tutti gli youtuber perché è impossibile ma almeno una buona parte un certo numero di youtube bene allora le cose potrebbero cambiare e potrebbero cambiare anche notevolmente no perché un conto è il singolo che va a bussare alla porta della multinazionale che ovviamente viene schiacciato ma se ci si presenta in un buon numero e si mette sul tavolo e si dice guarda noi ti facciamo guadagnare che ne so 10 milioni di euro all'anno con la pubblicità beh allora il discorso capite bene che cambierebbe detto questo io vi saluto e vi auguro un buon fine settimana un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio